Ancora un appuntamento dell'Associazione Cultura Nazionale, giovedì 23 maggio arriva Marcello Veneziano D'Arezzo. Sì, un vecchio amico di Cultura Nazionale, già la seconda volta in tre anni che viene, Marcello Veneziano viene a presentare questo bel libro, Nostalgia degli Dei, è un viaggio attraverso la storia dei grandi filosofi, da Platone ad altri, che hanno forgiato l'umanità stessa attraverso il pensiero e oggi questi punti di riferimento vengono un po' persi, sono stati persi soprattutto dai giovani e lui in questo escurso storico li ricalca un po' tutti. È un bellissimo libro, molto profondo, poi Marcello Veneziano ovviamente si soffermerà anche sulla politica attuale, lui è un giornalista, un attore, uno scrittore e quindi siamo molto contenti di ospitarlo giovedì 23 alle 21 alla Feltrinelli Point. Ecco tante le tematiche affrontate in questo cartellone, insomma, dell'Associazione Cultura Nazionale, quali saranno i prossimi appuntamenti? Allora, abbiamo un po' modificato perché gli eventi sono talmente tanti che non riusciamo a distribuirli, ma possiamo dire già che l'8 di giugno verrà l'Onorevole Fabrizio Cicchitto a presentare il libro Storia di Forza Italia. È un escursus anche quello per quello che riguarda una storia, è uno dei principali partiti della nostra storia politica italiana. E poi non vi posso annunciare niente, ma diciamo che un grandissimo artista della nostra infanzia verrà a presentare un libro in anteprima d'Arezzo, probabilmente a luglio.